Tra circa un mese si saprà se il favarese Antonino Baio, di 73 anni e reo confesso dell'omicidio del compaesano Calogero Palumbo Piccionello, al momento del fatto era in grado di intendere e di volere. Il GUP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha infatti dato incarico a due professionisti, Domenico Micale di Palermo e Alessandro Meli di Agrigento, di compilare la perizia medica. I due periti saranno sentiti dai magistrati il prossimo 28 novembre. Il loro pronunciamento potrebbe essere decisivo per la chiusura del processo che si sta celebrando al Tribunale di Agrigento. Anche l'avvocato di parte civile, Antonino Gaziano, che assiste ai familiari della vittima, ha chiesto e ottenuto di effettuare una consulenza di parte affidando l'incarico allo psichiatra Leonardo Giordano e alla psicologa Antonella Alessi. Gli esperti quindi avranno altri 30 giorni di tempo per valutare attentamente lo stato mentale dell'imputato. Ricordiamo che l'omicidio che ha sconvolto la comunità locale avvenne la sera del 27 novembre 2012 in Via Napoli, nel pieno centro della città di Favara.